Ho trovato un lavoro. Ah, io no. Lavoro, lavoro! Lavoro, lavoro! E' un lavoro! Ma quante volte ti devo dire che il lavoro mobilita l'uomo? Selle là! Ma che ti ha detto che voglia essere mobilitato? Adesso non ci frega proprio più niente di tua preziosa collaborazione. What are you doing? What are you doing? No! 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 Scusi, permette, permette! Scusi, permette, permette! Ma insomma, lo volete capire? Facciamo testa! Non sono uno che vuole morire, sono uno che si vuole suicidare! C'è qui sua moglie, signore. Eh sì, me la passi, per favore. Subito, prego. Grazie. Pronto? Ho fatto presto? Sì, sì, prestissimo. Signora Morelli, la signora è su. Veramente sono io, la signora Morelli. Oh, ma non mi rucarmo ma! Madonna! No! No! Fatto maloschi? E la madonna, un po' di attenzione, per poco mi ammazzo. E Gianni! E Gianni! Ma signorina, che cosa gli fa? È meglio che stia zitta, puttana! Ma come si fermè? Ma... Facciami, puttana! No! 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 E fai madri! E non fai alla mamma! Non fa cosi che bevami... E falla! Peno pieno falla! Ah, vi ho trovati finalmente! Madonna... Come li vedi dalla casa? Anzai! Atto quassù! Amor quassù! Galiportecci tu! C'è scusa, non c'entrava, non potevamo dire... 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 Basta! Non potevamo dire... Non potevamo dire... Lasciami! Ma quale incivile? Il cornuto! Faccio il cornuto! No! Non è possibile... Non è possibile che mia moglie lo faccia! Lo fa, lo fa! Oh! Vai Gianni, vola, 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 vola! Chiama? Vola Gianni, vola, vola! Vola, 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 vola! Vola, 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 vola! Vola, 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 vola! Torniamo in chiave! Vola, 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 vola! Vedrai adesso! Vado a letto con il primo imbecille che capi! No, ragiona, ragiona, che... Oh! Oh! Eccolo! Eccolo chi? Vole di volo! Ma insomma, chi è questo casino qua? Oh! Lei per esempio? Giandrebbe a letto con un uomo bianco come una parete? Ma neanche per sogno! Vole di volo! 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 Sai che ti dico? Cacca di addosso!